E ora saluto voi, cari bambini e ragazzi delle oratori delle scuole di Roma, che avete portato le statuine di Gesù Bambino perché siano benedette. Li benedecco. Nel benedire i vostri bambinelli, vi chiedo di pregare davanti al presepio per i bambini che vivranno un Natale difficile, nei luoghi di guerra, nei campi profugi, in situazioni di grande miseria. Grazie di questo e buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Un applauso ai bambini. E a tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.